Una beffa atroce, ancora una volta sul più bello la Dea Bendata si è dimenticata della Paffoni. A Montecatini alla Final Four ci va Luragna vittoriosa in una drammatica e folle gara 5 risolta supplementare. Fanno festa giustamente, i ragazzi di Coach Villa piangono tutti in casa a fulgor, giocatori, staff, dirigenti e tifosi che hanno gremito in 1500 le tribune del Palabattisti. Omenia perde a testa altissima contro una signora squadra, entrambi avrebbero meritato di raggiungere il Palaterme ma i dettagli e gli episodi di centimetri hanno premiato i milanesi. Tre volte la Paffoni ha avuto la palla per vincere, la prima nei regolamentari, ma l'arresto e tiro di Arrigoni si è fermato sul primo ferro. La seconda a tre secondi dalla sirena dell'overtime ma il capitano ha perso la maniglia sull'assist schiacciato di grande. La terza è stata quella più incredibile. Dopo l'errore volontario di Simoncelli dalla lunetta a un secondo e un decimo dalla fine sul più due Uragna Arrigoni ha lanciato la palla da più di 20 metri. La classica preghiera con una parabola praticamente perfetta. Mezzo centimetro, mezzo maledetto centimetro, ha negato la gioia più grande al popolo rosso e verde con la palla sputata dal ferro tra l'incredulità generale. E ora comincerà il tempo delle riflessioni perché a caldo non è mai giusto prendere decisioni. Il primo nodo da sciogliere sarà quello dell'allenatore. Le parole a fine gara di Ghizinardi sapevano di addio ma erano dettate dalla delusione del momento. Non è corretto parlare di follimento, sarebbe sbagliato e fuori luogo. La mancata promozione della Paffoni non è paragonabile ad esempio a quella di Caserta uscita al primo turno play-off e dal primo turno di Coppa Italia con il budget più alto di tutta la Serie B. È mancato ancora una volta il classico centimetro per fare l'euro. Ripartirà Omenia nella sua nuova casa di Gravellona con l'entusiasmo che questa stagione ha portato in dote. I 1500 di sabato sono una grande iniezione di fiducia e ripartirà dallo straordinario feeling che questo gruppo ha saputo instaurare con l'ambiente. La sensazione è che ci saranno molte conferme perché in fondo è giusto così.